E' stato ufficializzato a lavori ormai ultimati il decreto di finanziamento per il ripristino messa in sicurezza della condotta fognaria a servizio delle strutture turistiche di Capo Calavà. Il dirigente generale della protezione civile regionale Carogero Foti, con decreto del 27 maggio scorso, ha deliberato uno stanziamento di oltre 223 mila euro collegato agli eventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi per eccezionali eventi atmosferici. Nel 2019, quando si verificarono i danni per le mareggiate, il presidente della regione Nello Musumeci aveva assicurato un impegno sia politico che amministrativo ed oggi si è chiuso il cerchio con la comunicazione del finanziamento. Il 2 aprile 2019, a seguito delle segnalazioni pervenute da parte del Comune, personale del Dipartimento regionale di protezione civile ha effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici del Comune e le forze dell'ordine per accertare lo stato dei luoghi. Successivamente il Comune ha trasmesso un preventivo di massima per un importo di 280 mila euro, di cui oltre 197 mila per lavori ed oltre 82 mila per somme a disposizione. Il 10 marzo scorso il Comune ha inviato una nuova nota con l'importo effettivo dei lavori, il ribasso d'asta ed altre somme fino a poco oltre 223 mila euro. Alcuni giorni fa l'ufficializzazione delle risorse da parte della protezione civile regionale. L'intervento che è stato realizzato sulla spiaggia di Capocalavà rientrava nella sua omorgenza per consentire l'apertura dei villaggi turistici, salvaguardare innumerevoli posti di lavoro e assicurare risvolti positivi di carattere economico per tutto il territorio. Come spiegò lo scorso anno l'assessore alla protezione civile di Gioio Samarea, Giosuè Giardina, c'era il serio rischio che i villaggi turistici di Capocalavà per problemi igienico-sanitari dovessero rimanere chiusi. Giardina ribadì inoltre come il presidente Musumeci, che effettuò anche un sopralluogo a Capocalavà, comprendendo la gravità della situazione, confermo l'avvio dell'intervento di somma urgenza.